Scusi onorevole senatore, adesso che viene fatta la tangenziale... Ho fatto un mese, ecco, una cosa che vi do, comunicazione di servizio. Ci sono tante persone che quando cessano dal mandato parlamentare continuano a farsi chiamare onorevole senatore o quant'altro. E Paolo... Ecco, ecco, allora, io sono senatore fino a quando non entreranno in carica i nuovi senatori e i nuovi deputati. Voi, visto che siete degli amici tutti quanti, mi farete la cortesia il giorno stesso in cui io non sarò più senatore di diritto eletto di non chiamarmi più né senatore né onorevole, perché mi chiamate Paolo chi mi dà l'elei mi può chiamare dottore, visto che faticosamente ho una laurea perché sono presa, e quindi credo che sia... Me occupe preferisco Paolo, perché Paolo è per sempre, senatore, invece, è per un tempo della nostra vita o deputato, o l'orevole, la stessa cosa, che io ho sempre interpretato credo in buona fede, perché in realtà commettendo anche degli errori come tutti però in buona fede, con il massimo dell'impegno e considerandolo sempre come un impegno provvisorio e un servizio civile.